Carissime amiche, benvenuti, ostini, benvenuti voi che siete qui, benvenuti tutti coloro che attraverso la rete ci stanno ascoltando, benvenuti anche a quelli che in periodo dell'allegriamento non possono essere qui, ma col cuore, mi abbassate per favore, mi abbassate. Per noi oggi vi ricordo di portavviso, un giorno fondamentale, un giorno che facevamo a tutti pure a pensare.